Due settimane fa Rossini TV ha acceso le telecamere su una segnalazione di alcuni residenti del centro storico rivoltisi alla nostra emittente. In particolare si tratta del civico 13 di via Severini, un'abitazione con nove appartamenti sovrastanti la struttura della biblioteca San Giovanni. Qui sono presenti una quindicina di posti auto che anni fa erano delimitati da un cancello e da una sbarra, poi rimossi, che hanno modificato un'area di sosta di pertinenza della struttura in un parcheggio libero e spesso selvaggio. Un tempo c'era un cancello e poi a seguito della richiesta di alcuni vicini è stata data la possibilità, con una delibera di giunta, della vecchia giunta, di parcheggiare praticamente tutto il vicinato, chi ha il permesso della ZTL e quindi qui è diventato un parcheggio selvaggio. Dobbiamo tener conto che qui abitano delle persone, alcune anziane, alcune con delle patologie e anche con l'handicap e quindi avrebbero bisogno di avere almeno un parcheggio per sé, visto che abitiamo sopra questo cortile che è di pertinenza di questo edificio. Per cui chiediamo semplicemente che venga riservata alcuni posti per i condomini e poi il Comune potrà fare del resto del parcheggio quello che crede. Il Comune di Pesaro, attraverso l'assessore all'operatività Enzo Belloni, ha respinto la richiesta dei residenti con queste motivazioni. Io devo dire che sono stati fortunati fino adesso, nel senso che quella è un'area totalmente pubblica, quindi un'area comunale e nessuno ha il diritto di parcheggiare più di un altro, nel senso che è un parcheggio a disposizione dei residenti del centro storico, quindi un parcheggio all'interno della ZTL e tutti i residenti della ZTL hanno il diritto di parcheggiare in quell'area lì. Se prima c'era un cancello ed è stato rimosso, è stato rimosso tardi, doveva essere rimosso prima forse. Se ci sono disabili o persone che hanno problemi motori, comunque vengono garantiti i posti gialli, non mi piace sentire una protesta che vuole sfruttare le persone malate o i disabili. I disabili che hanno la patente, hanno il diritto di avere il posto auto, ce l'hanno. Quella è un'area totalmente pubblica e a disposizione e libera di tutti. Se i privati volessero in qualche modo avere un diritto rispetto agli altri, dovrebbero avviare una procedura con il patrimonio e chiedere l'acquisizione dell'area. Quindi uno può pensare anche di comprare dei posti auto a patto che l'amministrazione sia disposta a venderla, altrimenti tutti vorrebbero sotto casa propria dei posti riservati per i residenti. Io abito in Via Rossi e i parcheggi non sono facilissimi. Bisogna ogni sera fare qualche metro per parcheggiare. Farebbe comodo anche a quelli che abitano nel mio palazzo pensare che i posti davanti siano riservati ai residenti del condominio.